Sono Alessandro Stella, un saluto a tutti gli abbonati della Juve e un invito a venire a sentire il concerto che terrò insieme a Giorgia Tomassi e Carlo Maria Gricuoli, un trio di pianoforti con musiche di Boccadoro, in prima italiana, Stravinsky, Shostakovich e Debussy, il 12 aprile alle 17.30. Vi aspettiamo tutti!